Incontri e relazioni con vari esperti al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa a Verona per affrontare il tema della libertà da più punti di vista. Tra i partecipanti al festival, realtà associative, cooperative, imprenditori che vengono da varie parti d'Italia, come Rita, imprenditrice di Villa Sorri in Sardegna, dell'associazione Il Nido della Pavoncella, che valorizza le persone attraverso il riciclo. Allora, noi crediamo che veramente il limite possa essere una grande risorsa, dai limiti un pochino più accentuati, ma anche a quelle che sono semplicemente le fragilità di ognuno di noi, che spesso tendiamo a voler nascondere. Invece il riciclo ci insegna proprio questo, che ogni oggetto che sembra arrivato al capolinea invece è portavoce di un messaggio di rinascita e quindi anche di speranza. Riuso i design insieme per queste tavole in legno con le sedi accompagnate, a farle la cooperativa impronte di Cittadella, che fa parte della rete Maranatà. La cooperativa impronte è una cooperativa sociale di tipo plurimo e ci occupiamo di occupazione, nel senso che le nostre attività prevalenti sono percorsi di accompagnamento al lavoro per giovani e adulti fragili in difficoltà. E l'altra attività invece è, stiamo sperimentando la creazione di un sistema che consente l'inserimento lavorativo sempre di ragazzi fragili, che escono da comunità pre-minori gestite dalla Fondazione della Grande Casa. Avete fatto questi tavoli anche che vediamo qui? Abbiamo fatto questi tavoli con grande fatica ma grande soddisfazione. Abbiamo avuto due ragazzi bravissimi che ci hanno lavorato, ragazzi che hanno qualche fragilità insomma, e sono stati accompagnati da due artigiani molto molto bravi e a cosa solo li potete ammirare insomma qui al festival.